In un incontro intitolato Patrizia Orchiola, lo sguardo oltre il confine, la celebre designer ha illustrato il suo articolato percorso professionale. Il profilo di Patrizia è caratterizzato da una doppia identità, laureata come architetto in Spagna, paese in cui è nata, si è formata come designer in Italia affiancando Achille Castiglioni e Vico Magistretti. Ci sono due persone a cui io devo molte cose, ho sempre detto che sono Castiglioni nella università, io penso che sarei rimasta architetto se rimanevo a Madrid. E all'Italia la Orchiola riconosce il merito di averle fatto scoprire l'anima del designer che sente tuttora prevalere in lei e di averle permesso di coltivare la tenacia, qualità fondamentale per il suo lavoro. Si è quindi parlato della collaborazione con B&B Italia, all'interno della quale la Orchiola ha creato prodotti per le linee indoor, outdoor e divisione contra. Tra le creazioni di grande rilievo c'è l'ultimo nato, Ask. Si tratta di un progetto che ha origine da un'idea del suo maestro Vico Magistretti, che sognava un divano composto interamente da cuscini. Ask è una poltrona costituita da una scocca rigida in i-rec, materiale plastico riciclato in quattro tonalità, da una serie di cuscini e da un basamento girevole a quattro razze, disponibile in verniciato nero, rovere chiaro spazzolato o rovere grigio. I punti di forza di Ask sono l'intercambiabilità degli elementi che permette di combinarlo con una varietà di arredamenti e l'idea di comfort che è visivo ancor prima che fisico. Francesca Taroni, direttrice responsabile del mensile Case da Abitare e moderatrice dell'incontro, ha sottolineato come la Orchiola sia stata la prima designer a conferire alla texture la stessa dignità data alla forza. Questa caratteristica del progettare si trova in molte creazioni della designer spagnola. Per citarne una, la linea per l'outdoor di B&B intitolata Canasta, in cui Patrizia intreccia la paglia di Vienna, una fibra plasticata, combinando grazia e funzionalità. Quando mi viene chiesto qual è il prodotto con il quale io mi identifico di più, di un'azienda, se c'è uno che io scelgo, non lo so, faccio fatica. Ma anche quando io giudico anche gli altri, gli altri progettisti. Amo molto il percorso, ecco, amo, non so, dire, per esempio, mi piace questo designer perché comunque tutto il suo percorso mi ha molto interessato. Ecco, lo stesso mi capita nei confronti di un'azienda. È ovvio che ci sono stati dei progetti che sono andati poco in produzione, altri che sono stati molto felici, ma no, non riesco a scegliere, amo il percorso. Ecco, poi nel caso di B&B il percorso è durato, sono dieci anni la sala del mobile, è il decimo anno, e già questo mi piace, questa cifra tonda, no? Ed è un percorso, non so, all'inizio io ero preoccupata, un'azienda comunque con un senso molto rigoroso, molto elegante, nei confronti del progetto, molto legate a progettisti, a progettisti comunque ho grande rispetto, come Citerio, dove potevo trovare uno spazio che fosse interessante, che comunque potesse aggiungere comunque dei nuovi linguaggi. Abbiamo conquistato poco a poco, perché il lavoro si fa nel tempo, ecco, va molto più a poco di quello che la gente pensa, abbiamo conquistato degli spazi dove io, per esempio, parlo del progetto, in qualche modo mi capiscono subito, e quello vuol dire che il percorso è agile, abbiamo un dialogo, è una cosa bella, ecco, stiamo imparando, sta andando bene.